Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, oggi siamo su GTA e in questa serie andrò in giro a rompere le scatole a tutti Siamo in compagnia di Furious HD, saluta, passate sul suo canale che appunto si chiama Furious HD tutto attaccato con la F con HD maiuscolo Ok, io sono quello dietro e lui è quello sulla moto e ok, stiamo andando a prendere un aereo e andremo in giro a uccidere tutti, pazzesco Ok, aspetta che impugno la mia trajetta, ok, avvicinati Amico, amico c'è un aziendorno No aspetta, fermo Il veicolo personale che è distrutto è rassicurato, ti sono stati adebitati 2420 dollari Eh ma io non ho così tanti soldi Scappiamo Scappiamo, prendi un aereo qua, no ma non c'è uno di qua Non ce ne sono, ma si può, ecco Bello rosso Vai, 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 scegli Sali, sali Ok Vai, vai, vai Ti salito, dai In quanti siamo nella sessione? 12? Siamo in 12 Ma qui non segnaliamo su uno Ok, è qua vicino A parte quello lì Ah, a parte quello lì ormai l'abbiamo già ucciso Ah, quello di prima Andiamo questo qua alle giostre Cosa ci fa alle giostre? Non fa alle giostre sull'aligno Cosa ci fa alle giostre? Cosa ci fa alle giostre? Ma che tarello Che tarello, veramente, vero? Per chi non sa cosa vuol dire Significato scemo Ok, siamo arrivati Abbassati di quota Ok, abbassa, abbassa Qui ha il meggi oltre Ma si può No, no, no No, c'è la polizia pure No, ce l'abbiamo noi, sinceramente Fermo Come è che? È lì Non riesco a prenderlo Perché non riesco Devi andare un po' più indietro Così? No Aspetta, sì, sì, sì Stai fermo È una macchina della polizia Sei stronti Eh, ma è troppo lontano Ahia Ma no, ci sto sparando Veramente Scappiamo Tenere un posto su un altro E ragazzi Scrivetemi nei commenti Se volete magari dei video Su The Crew Appunto Vi avevo promesso Let's Play Ma non ve lo porterò Perché Boh Non lo so Sinceramente Però scrivetemi nei commenti Se volete vedere magari Degli ambienti O delle macchine E roba del genere Stessa cosa su Assassin's Creed E E comunque vi ricordo Già adesso Prima della fine del video Di Che dobbiamo arrivare A 6 like Per il prossimo episodio Insieme a Furious HD Ok Ok Intanto Furious Non C'ho questo C'ho uno qua Ok Dai Di cattiveria Dov'è Rispondalo Ma dov'è Qua sotto Eh ma non ce l'ha Abbassati di quota Aspetta che Aspetta Aspetta Dai non riusciamo a prenderlo Vai abbassati Bombatesiva No non me la fa lanciare No non mi fa prendere l'arma No Non ci posso credere No Non ci credo Non ci credo Vai vai Furious HD E E E' scappato Io mi devo preparare L'inventario L'inventario Si L'inventario Polizia Ma va a cagare Polizia Oh my god Eh no Marco De Bomber Mi ha scritto una parolaccia Perché prima appunto Lo uccide Ma chi Marco De Bomber E' uno che Prima Gli ho fatto esplodere la macchina Praticamente Ah si No Mi ha scritto No vabbè No son morto ragazzi E avevo poco di vita Io sono però vivo Perché Si Ero vivo In un tempo Molto 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 lontano Oh io prendo L'elicottero Sali Posso guidarlo No guidalo te Eh aspetta che Io ero Stavo facendo una cosa Dove sei Ok Eccomi qua Vieni 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 Bello sto Il colore Cos'ha Arancione Si Si Boh Rosso Dai Ovviamente Adesso si distrugge Poi non ho detto No 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 Guarda che bello Questa qui è un'opera d'arte E' un elicottero Senza le pale Bello No scusa Anche io lo vorrei Prendiamo Ma me lo devono dare Ah la polizia Io lo semina Ah perché sono morto Beh Ovvio Senti No Adesso abbiamo una stella Anch'io Io prendo il mio veicolo Ok prendi il tuo veicolo Che salgo anch'io Tanto teniamo a bada I poliziotti Se arrivano Ok Ti do un ringo Allora Ecco Ma lancio granate A che livello si sblocca 60 Ah Ok io sono al 44 Quindi Ok pull Ma non ti piaceva il ringo Eh non mi dispiace Avevo solo quello io Corri Ho fatto sbloccare Dove sei? Vieni dai 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 Veloce Veloce Dai 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 Non mi fa salire Ok vai 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 scappa Ho 14 bomba di vive Viva via via Posso far saltare qualcuno Intanto Il radar Ok togli la meta Quella Ok l'ho tolta Ok non si sa dov'è La metto sulle gioste Che c'è ancora quello là Ancora il tizio Sì No torna indietro Bravo Adesso lo dobbiamo uccidere però ragazzi Ma quantissima l'ha fissato con le giostre Eh gli piacciono le giostre Ciao polizia Io chiamo Lester No non anch'io i soldi Io pochino Non ho più soldi io Ok then Wow Anch'io Io per modificare la mia massacro No 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 Non è l'acqua Non è la moto Ah ragazzi In qualche video vi farò vedere anche la mia massacro Eh dai salire e scarico la moto Ah è qui sopra Eh si Aia Ok io adesso Io scendo Anch'io C'è la pula eh Attenzione Sì vabbè vabbè Siamo noi Contro quello e la pula Ma guardalo Quello è schifoso Guardalo dov'è No Eh l'ha ucciso L'ha ucciso Non muore No l'ha ucciso Ok vai Via corri Mi ha proposto un duello Io non l'accetto Perché sinceramente Non perché ragazzi Voi pensate che io abbia Paura Ma No Ok Visto che hai FIFA Eh E non hai peso Allora adesso andiamo da Questo qua che è fermo sinceramente Sul radar Se fermo va tutto bene Abbiamo due stelle Abbiamo due stelle ragazzi Sì È strano che non mi sto schiantando troppe volte con la moto eh Eh miracolo Io sono proprio pro a guidare Intanto ho lanciato una bomba e non ho beccato nessuno Bravo A me mi ha rimasto impresso quello lì che era sopra le Le giostre Le giostre Ma che cazzo Ok è in pausa Ferma Per l'esplodere Dov'è? Dov'è? È qua Fermo No No Non ci credo Come hai fatto? Ragazzi Ho ucciso Katag E quello non è morto? Ma dai Non ci posso credere Ma non ci credo Eccolo qua Sta andando a fuoco Ok è morto No perché si sparava? L'ho ucciso L'ho ucciso Cos'è? No l'ho ucciso Polizia vai via E io mi proteggo dietro qua No Dai Sei morto Furious? No no Ok Se vanno a prendere quello là Io voglio prendere il tizio No dove sei? Io sono qua dove c'è la pula No no Mori Ma dove sta andando? Segui Basta che apri la mappa Segui No Fermo Torna indietro Ok L'ho ucciso Ah se lì ti vedo Furious Blackman 964 Bell 96 Cutta Furious Adesso Io direi che Possiamo uccidere L'ultima persona E poi il video Può tranquillamente Terminare qua Ok Uccidiamo ancora quello No Andiamo a uccidere un altro Ma quello là ancora vicino alle giostre Sta andando alle giostre Ancora mi è fissato Andiamo da questo che è fermo Anche qua Nella partita c'è Ivanovic C'è Ivanovic Scusate No non è fermo quello scusa Allora Potremmo due là Aiuto Non so se l'hai visto della mappa Ma ce ne sono due Ok Anzi andiamo da quali là Due macchine Possiamo fare Una double kill Attenzione No Ma vola la macchina Io la vedo volare Non so il Perché Oh Quatta Eh Furious Ci sei? Perché ti sei fermato? Ti sei fermato? No non si ferma Ragazzi Incomincia a laggare La partita Perché tipo lui Diceva Che andava Ma io lo vedevo Fermo Quindi Ok Hai per Dice di lanciargli Una bomba adesiva Ma dov'è? Ma io sono sceso Dalla macchina Si Lagga troppo Chiudi il video Allora ragazzi Direi che questo video Può tranquillamente Terminare qua Lasciate tantissimi like Arriviamo a 6 Like per il prossimo episodio Con Furious HD E Poi vi porterò Un altro episodio Di Gare Pazze Appunto Commentate Iscrivetevi al canale Passate sulla pagina Facebook Che trovate nella descrizione Il video E vi mando un salutone E noi ci vediamo Al prossimo video Bella raga